Gli esseri umani siamo animali visivi, poiché è attraverso la vista che otteniamo la maggior parte delle informazioni su ciò che ci circonda. Tuttavia, i cani si guidano maggiormente grazie all'olfatto. La capacità olfattiva di questi animali è straordinaria ed è ciò che gli permette di interagire con il loro ambiente nel miglior modo possibile. In questo video di Rimalpedia ti spieghiamo come funziona l'olfatto del cane. Da non perdere! I cani non si abituano agli odori. Quando noi umani percepiamo un odore nell'ambiente, ci abituiamo gradualmente ad esso, in modo che, dopo un po', non siamo più in grado di distinguerlo. Questo fenomeno non si verifica nei cani, poiché l'olfatto è il loro principale canale percettivo e non smettono mai di rilevare gli odori che li circondano, anche se vi sono stati esposti per molto tempo. Scopri gli otto odori che i cani proprio non sopportano nel video che ti abbiamo preparato. Possono stabilire successioni temporali attraverso l'olfatto. Questo perché sono in grado di rilevare la concentrazione di molecole odoranti nell'ambiente e come questa concentrazione varia nello spazio. Più alta è la concentrazione molecolare, più intenso è un odore e ciò significa che la fonte dell'odore è stata in quel posto da poco tempo. Non tutti hanno la stessa capacità olfattiva. La razza, la morfologia del cranio e la genetica influenzano lo sviluppo dell'olfatto di un cane. Il cane con il miglior senso dell'olfatto attualmente è il cane di Sanuberto, un segugio di origine belga con più di 300 milioni di recettori olfattivi. I cani brachicefali, come il bulldog, e i cani dolicocefali, come il lebriero, hanno un senso dell'olfatto leggermente meno sviluppato dai cani mesocefali, poiché la loro anatomia rende un po' più difficile il passaggio delle molecole. Scopri uno dei migliori giochi olfattivi per cani nel video che ti abbiamo preparato. Le narici sono indipendenti l'una dall'altra. A differenza del nostro naso, le due narici del cane sono in grado di rilevare gli odori in modo indipendente per localizzarne l'origine e inviarne diversi input al cervello. Il disegno del naso del cane è unico. Le linee che compongono il tessuto cutaneo del naso di un cane sono uniche in ogni individuo e non esistono due uguali, proprio come le nostre impronte digitali. Questa scoperta ha portato all'uso di impronte di naso del cane come prova di identificazione in diversi paesi in caso di perdita, furto o abbandono. Dicci, conoscevi queste curiosità sull'olfatto del cane? Faccelo sapere nei commenti! Alla prossima!